eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi parleremo di blackout e parleremo di lancio di black ops 4 ho veramente un bel po di immagini da mostrarvi e di dettagli da condividere con voi come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty bene notizia importantissima che arriva direttamente dal profilo twitter di call of duty da domani 8 ottobre fino al lancio di call of duty black ops 4 fissato come sapete al 12 di ottobre ci saranno degli aggiornamenti appunto giornalieri sul profilo di call of duty la notizia arriva proprio con questo post che possiamo andare a vedere dove potremo leggere che questo tweet riceverà degli aggiornamenti giornalieri quindi delle notizie importantissime in merito alla battle royal di black ops 4 da domani quindi fino al lancio fissato al 12 di ottobre quindi questa settimana scopriremo in cinque giorni nuovi contenuti e nuovi dettagli sulla battle royal quindi rimanete sintonizzati perché da domani sera ci saranno tante novità e informazioni sulla modalità black out di black ops 4 chissà cosa ci deve svelare la trayarch passiamo invece a parlare del lancio di call of duty black ops 4 perché come sapete venerdì sarà lanciato il gioco il 12 di ottobre e i negozi cominciano a prepararsi al lancio appunto di questo gioco come sapete la saga di black ops allo stato attuale la serie più giocata e più attesa del momento andiamo a vedere ad esempio come si stanno preparando i negozi in america soprattutto la catena di walmart vi mostro queste immagini che cominciano a trapelare in rete potremo vedere ovviamente la grafica tutto a tema di black ops 4 troveremo equipaggiamenti a tema di black ops 4 ad esempio in questa catena di walmart negli stati uniti è stato confermato come potrete vedere le nuove action figure di call of duty della catena mcfarland potremo vedere la primissima immagine del season pass allo stato attuale non sappiamo ancora quale sarà il prezzo ufficiale in italia massivo cifra intorno ai 50 euro 49 99 farò sapere non appena ci saranno nuove informazioni e confermati i doppi punti con due prodotti con le monster energy e con le pringles alcuni utenti mi dicevano che anche qui in italia con le monster energy ci sono i punti doppi di black ops 4 quindi fatemi sapere poi qui sotto nei commenti quale catena quale rivenditori venderanno questi prodotti perché sarà molto interessante per chi come me beve le monster mangia le pringles avere a disposizione questi prodotti per avere i punti doppi da utilizzare all'interno di call of duty black ops 4 rimanete quindi sintonizzati perché da domani notizie esclusive direttamente dal profilo di call of duty con tante novità su black out chissà che cosa ci devono svelare qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate lasciate un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty e noi ci vediamo con tanti nuovi video